E poi pronto pronto non attivarmelo non attivarmelo non attivarmelo per favore No 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 tranquilli non andiamo da nessuna parte io ti do io il via aspetta un attimo Non attivatemelo non attivatemelo Eh c'è lista kill Bene prendilo quello bravissimo Allora io adesso scendo avrò bisogno forse di un po' di copertura per scendere dall'ascensore Devo prendere il calcio del muro e poi tornare su e ricomprare l'arma a muro Ti conviene approfittare dell'ista kill Esattamente ore MP5 ottimo ok Bene ci sono Ovviamente quando c'è lista kill non ci sono zombie Lo facciamo? Eccolo qua eccolo qua Io sono stanchissimo Mezzanotte è mezzanotte ragazzi è mezzanotte Eh ma che abbiamo iniziato alle Eh bella govene Madonna meno male che abbiamo iniziato presto ragazzi A che orario è entrato Debye che ha fatto casino? A che minuti Al trentesimo round Sì però non posso scontare tutto il trentesimo È che dura un'ora Metà Metà Però guardate che veramente adesso lo riconfermo quello che ho detto all'inizio della partita Che noi stiamo creando sottofondo per permettere alla gente di parlare di altro tipo no? È vero è vero è vero è vero è vero Abbiamo avuto anche un ospite speciale tipo No 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 ce la facciamo ce la facciamo spammo i miei colpi Machina mortale C'è qualcuno riesce a andare a prenderla senza morire però eh Dietro 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 Ce l'hai Dazzo ce l'ha Dazzo ce l'ha Dazzo Eh c'ero io che mi hanno mi hanno accerchiato in un secondo No 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 Scimmia Jumbo scimmia No no aspetta ce la farà ce la farà Io ho Io ho dovuto tirarla mi hanno invaso di brutto raga dietro di me Dietro ho bisogno di dietro Eh vabbè dai Eh uscita da lì uscita lì Usciamo perché non ce la facciamo a tenerlo Io ho una scimmia Ok Anch'io Allora No zombie A posto Ok Allora io faccio una cassa Di qui ci siamo No eh ma anch'io potrei farne una Eh però Ce lo prendo comunque Ci sono un po' di zombie in giro Che danno un fastidio Ah Eh devo andarsi a prendere l'emmo Ho paura di morirci No dai ce la faccio Ok Sto salendo a prendere dell'emmo Pfff non mi ha fatto fare la cassa che stronzo Vabbè Non te intendevo Ida Oddio 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 raga Eh io Ok Ok Ho saltato gli zoppi sulla scala Sì sì ma ci sta anch'io lo faccio sempre in realtà Sì però se qualsiasi tot vari ti incastri Ogni tanto Oh tutti con dieci volte a terra mi piace usare di più adesso Fra ne fra Fra cinque Esattamente la metà Sì sì Ma fra ha sempre il doppio della fortuna e la metà dei morti No a sto giro io lì ci sono stato fortunato Da quando sono andato a terra lì con la laggata Comunque molto e meno volte a terra delle altre volte Cioè delle altre partite quindi Sono contento Adesso manca ancora sto round quindi Beh dai io in realtà per non giocare da tre anni direi che Va bene Va abbastanza dai accettabile Non vogliamo No non si molla un cazzo Su 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 Dai dai che lo finiamo spacchiamo tutti tutti questi stronzi qua Ah C'è solo questo Dobbiamo farlo E poi Raga devo Oddio Devo tornarsi a prendere l'emmo Vado Sì Paga pancia Eh ho già pagano panciato Cioè io sto usando L'arma quella della one man one door Paga panciate E sto comprando Le emmo Cioè sto usando l'MP5 praticamente Io basta Non posso più permettermi Mamma mia stizzo No 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 Non farmi sti sesti eh qua Cazzo No porca Oh no Farai un casino Vado giù Vado giù io Vado giù io Va bene va giù Diamo giù insieme No ormai Ci sono di andare No no tranquillo Se serve Se mi serve ce l'ho Ah Secondo me è meglio Perché io Oh no per forse no Forse no Ho defconato Ok Sì che poi è vero Io non ho neanche Di più crevai Oltar tutto Dove voglio andare Un attimo scendendo da voi di nuovo Ma per attivare il defcon eh Pronti Io lo sto prendendo Ci siamo ci siamo Ho finito i colpi della Reagan Potremmo anche Cioè o meglio Un caricatore Ma tu ce l'hai già pagganciata però Eh sì L'ho pagganciata prima Cazzo Prima Oh la fatica Io ho potenziato anche la Basta Ho potenziato anche la HP No Io sto continuando a comprare Emmo Io anch'io ma sto facendo un errore È solo perché ormai No ragazzi Sono andato a incastrarmi sul Sono andato a incastrarmi Non uccideteli Non uccideteli Non uccideteli per favore 33 gradi la cpu La gpu Beh poco 33 gradi Ti ricordi bei tempi Jambo Quando giocavi col portatile Ti andava a 90 gradi 80 gradi Dio santo Ok Temperature 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 Cresciato Io non ho mai Io non ho mai già finito Ho questo incubo È l'incubo delle temperature Siete ancora lì amici? Ciao amico Gianmarco Siamo a round 33 E siamo decisi di arrivare A round 34 Per battere il nostro record Nelle zombate natalizie Vabbè mezzanotte Tu sei ancora sveglio Incredibile Infatti non vedo l'ora Di andare a dormire Vai vai c'è un per due C'è un per due Ottivissimo in questo Ecco Sono uscito al death Trigentissimo Potevo uscire di tutto E ho finito anche i colpi Io Quindi devo andare su a comprare l'Emmo Di nuovo Ma Eh Cazzo Ok vado Cazzo Adesso mai più Ok Rischiosissimo Venirci a prendere ste cazzo Raga ho saltato due zombie C'è due zombie però che camminavano Cioè Io E io Non Bene Zombie Zombie UN Come siamo usciti Siamo usciti E jetzt Escape Epic Per il finale come cazzo siamo usciti Ahro Oh%. God E' Generale Siamo incontrati lì e... Ma quanti colpi? No dai ma muoiono abbastanza con l'enticidio potenziato Come che finisce subito i colpi Eh il problema è quello, io ho già finito il commando I punti che mi sono fatto per pacca pancialo li devo... Oh io intanto sto riattivando il defcon Io lo so che a penerlemma Non so se sia stata una buona idea Ti faccio compagnia No 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 Daz no Daz Tiro una scimmia No 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 Eh no no ok io pensavo di riuscirci E invece mi sono ucciso come un coglione Ma va bene così È perché comincio a non ragionare più Eh infatti è stata... Boh ma è un problema Comincio a non essere più vigile come prima Vigile mi piace il termine vigile No raga no raga No raga è finita finita Ok 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 Io sono qua e l'ho blocciato qui Sì sì c'è il defcon No ok no scusa un attimo Ok faccio un giro faccio un giro faccio un giro Dal jug jambo deve andare Io ho finito la scimmia Io ho finito la scimmia Entro nel def No gliel'ho fatta io Gli ho fatta io la scimmia Sì 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 poi io non ne ho più dico quindi Eh neanche io non ne ho più eh Fra tu? Io non ho una sola Una sola ok Ok buon dai Beh dai è sempre meglio di una scarpata nel culo Sì 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 Dai che forse... No Oh che scherzo No 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 L'hai visto? L'hai visto Fabio vero? Sì l'ho visto Mi ha body bloccato Daz vai vai tranquillo vai tranquillo vai tranquillo Non ti tranquillo Non avevi il quick Ok No no non avevo il quick È per quello che ho zoppato quei due dietro Prima di andare Quanti colpi di Reagan c'hai? 13 Ok bene Io 6 Quindi Ok dai Ne ho il doppio di te Vado a comprare le ammo di nuovo Prese Anche io dovrei andare giù A comprare quelle dell'HP No raga sto rifacendo il giro qua dal No 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 Fra cosa hai preso? L'Olympia potenziato? Yes Grandissimo Che fa pigare fuoco agli zombie l'Olympia Potenziato Fra abbiamo dei problemi? Fra? Notato Ok Io inizio a non vedere più gli zombie Seriamente Vedo i massi multiformi Vedo si roba nera Che si muove Quanti sono? Quanti sono? Eh Dovevo comprarmi le munizioni Mi piace Mi piace Che diventa Che hai ragione Comunque è super rischioso venire via da lì per comprare le munizioni Io le compro di sopra Io le compro la scala di sopra Sono morto Sono troppo Cos'è sta caduta ripetizione Tutti e due insieme Allora Io arrivo Adesso Non ho colpi Io non ho colpi Perfetto Ti sono Ti mi zombie che c'ho qui Ti mi zombie che c'ho qui Vai 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 Ce li avevo dietro io Beh spero che non ti abbiano seguito Cioè c'è io qua Sì sì Andiamo sopra E li trappiamo Facciamogli uomini Trappiamoli Trappiamoli Facciamo i trapper No No Daz dietro Daz dietro Daz Daz Scusa Colpa mia No no colpa mia Sogno che sono venuto Dietro di te Vabbè ma ci sono eh Boh Boh Oddio Ho finito i colpi di rey Gattazzo Quindi non più Grazie Grazie Ti amo Va che di me Salvato la vita Non ho il quick però Non ho il quick Non ho il quick Non ce la farò mai Non ce la fai Non ce la fai Non ce la fai Via 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 Non ce la fai Ti salvo io Ti salvo io Provo ora Provo ora Ti salvo io Ti salvo io Lasciatola a me Lasciatola a me Mi sacchifico io Prova ora Prova ora Prova ora 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 orò mai più Ora orò mai più Ora orò mai più Ti salvo io Madonna fra Ero rosso più rosso del rosso Grazie E per fortuna Cioè fino adesso Nessuno è ancora scomparso No Nessuno di noi è scomparso Cioè ho rischiato di essere io Ma nessuno è scomparso Ehm Siete usciti dal Defcon Giusto? Sì Sì Allora non uccidetevi Che faccio il giro Per riattivarlo Che devo pagavanciare No ma ce ne sono un mondo Raga Ma ce ne sono un mondo Ok È come se tutto il pianeta Terra Si forse è riversato In sto cazzo di pentagono Tipo Ehm Io e dati stiamo Raga Ok Vi prego Attivatemi Cioè adesso Tra poco Mi attivate Gentilmente Per favore Grazie Il Defcon Quando volete Ok grazie Ok certo Lo attiviamo subito Attivate pure Quando volete Grazie Eh un attimo Sto correndo contro Una Grazie Ecco Ok Non ho preso le ammo Ho rischiato di morire Perché sono entrato C'è di tutto avanti Mi ha ributtato Di nuovo Da dove venivo Quindi ho tutti In tutto Panico Ok Raga Adesso ho comprato La Double Tap Questa volta Con il calcio del muro Io c'ho mal di schiena Perso le speranze Dobbiamo finirlo Questo Dovrebbe essere Quasi finito Sto 33 Eh vacca dia Dai da due ore Che diciamo Che è quasi finito Siamo a tre ore Esatte di partita Io dico Sì infatti Ma io Ma è possibile Che Quando Dopo tre anni Che mi metto Devo giocarci Quattro ore Di fila Perché se no Non va bene Una volta l'anno Direi che No Ma che cazzo Sì Già Ho visto Cosa è successo Mi è andato Nello stesso spawn Vorrò buttarmi giù Ma dai Ma dai Bene Ho finito i colpi Di nuovo Io Ho quick Quindi Non posso coprirti No Non posso coprirti In nessun modo Tienimi di zombie Più lontano Però devi andare tu Io te ritiro Te li tengo qua Guarda Rischio di crepare Per farteli Non ho più niente No no ma qui Questa è la regola base Nessuno scompare Ok Io giro Io posso solo girare No 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 Io non ho paura Non ho più niente Nessuno scompare Cacca troia C'ho io quick C'ho io quick Tienimi gli zombie lontani Jumbo Ci provo ma No no ma vai vai Cerfai cerfai Sta meno Sta meno Sta meno Ok 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 Ecco Nessun problema Ho finito i colpi Vado solo a comprare un attimo Lemmo al volo O sopra tutti O con quella trappola E spariamo No 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 Non ce la faremo Nessun problema Nessun problema Nessun problema Allora No 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 Ma adesso ho fatto due cadute A ripetizione Proprio Eh non ce la facciamo più Siamo arrivati No ma al 34 Bisogna raggiungerlo Forza e coraggio Ma al 34 Forza e coraggio Via via Aspetta che prendolo Compro per l'ennesima volta Stavo per farla Cazzata io Forza e coraggio È quello che diceva Mussolini Durante la campagna di Rossi No Non promette bene Forza e coraggio È la vita di passaggio Eh no io non ho più il giagra Non posso più fare niente Inutile Eh sì perché è chiaro Ma è così che succede Quando non hai più i punti Per prendere il giagra Poi non fai un cazzo No ma lasciatemi No nessuno scompare Nessuno scompare Devi battere 40 volte a terra Prova a prendere La mia P5 E sopra Eh non riesco nemmeno ad andare Tazzo Vai ora Tazzo Mamma mia Cos'è successo Mamma mia Mamma mia Da dove sei uscito Da l'altra parte Ma io sto Ma io sto a fare di quelle robe Ogni tanto In sta partita Che non sta né in cielo Né in terra Allora Devo andare anche io a prendere L'emmo dell'MP5 So che adesso ci sono un po' di zombie Adesso quindi Giro un attimo La mia scelta è O andare in terra In continuo Oh un po' di punti Di fai adesso No dai stai No no vai Cerca di non farti beccare Stai magari dietro di noi No no adesso Ok Raga Faccio anche il giro Per attivare il defcon Visto che ci sono Dato che c'ho dietro Ma possiamo Facciamo la tecnica Tanto ormai non abbiamo più nulla da perdere Ragazzi No no Non possiamo rischiare Di Possiamo No 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 Che cazzo stavo succedendo Vai vai Fatti un po' di punti Tanto non ne ho abbastanza No no ma vai Sparando nel mucchio Secondo me Ok What? No 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 Venite avanti Venite avanti Jambu no Vai sopra Bravo bravo Esci di qua No però Ok Ho cambiato giro eh Ah Ho cambiato giro Ma ce ne sono di più Della mia parte Quindi ci conviene Cambiare giro eh Che cazzo Un altro Poi io muoio Ok Il giro è quello orario No quello Sì orario È orario Giusto Sono spastico È orario Io veramente Vi ammazzo Io domani Alla sveglia Le sei Mi dispiace Domani andrò a letto Con Torpio Beh domani fai lo sforzo Poi vai a dormire presto Domani dai Io c'è non so Adesso capisco perché Abbiamo sempre abbandonato il 33 Cioè c'era una motivazione Logica e razionale A tutto questo No no ma adesso lo facciamo Adesso lo finiamo Dobbiamo trappare Comunque se volete potete Defconare Dobbiamo trappare Ormai dico solo questo Dobbiamo trappare Volendo potete Defconare Perché sotto qua Non ne veniamo mica più fuori Guardate che due siamo lungi Ma in realtà Non saremo neanche a metà Ma no dai Siamo a metà Cazzo Ma se anche fossimo a metà Vuol dire che manca Un'altra mezz'ora Però eh Forse anche fossimo a metà Mirko Dobbiamo intenziarla È l'unica Ma moriamo Porca puttana Cioè di sopra moriamo Mamma Se arriva No 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 Questa quantità No 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 Raga sono chiuso Raga sono chiuso Eh vedi La trap Adesso Nessuno Deve Ok uno deve Tenere gli zombie E un altro Deve No 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 Adesso 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 Tra è l'unico Quick forse Sì 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 Sto per scendere ora Voi girate Voi girate Voi girate Girate lontani Del trap Lontani da me Io sono incastrato Non riesco neanche a sedire le scale Ok Mi metto in una posizione Un po' meglio Faccio una pazzia Faccio da scudo umano C'ho da scudo umano Grazie Adesso faccio un'altra pazzia Scendo sotto con tutti gli zombie Senza i quick Cosa Senza jag Avevi punti per il jag Adesso faccio una pazzia ragazzi Mi faccio buttare a terra Corro incontro Corro contro gli zombie Esatto Tipo io sono leggenda Con la granata in mano Defcon La prima stanza La cazzo Allora io a sto punto Butto via l'RFK Devo ripacapanciare però Quindi Sì anch'io Fammi fare una roba Gira Gira Ho mancato proprio Lasciatemi morire Voglio morire Ce l'ho fatta Sono sceso Va fanculo Sì Allora se riuscite ad attivare Defcon Io penso che possiamo salvare Jumbo Perché così uno entra Allora lo attivo Lo attivo subito No voglio morire Lo attivate Lui può entrare Attivato Entra nel Defcon Jumbo Da questa porta a sinistra Jumbo Ma voglio morire Entra nel Defcon Voglio morire Qual'era quella corrente filosofica Dante? No ragazzi Sono Qual'è la corrente Quella che vogliono morire Quelli che sanno santo morire Ah Gli gnostici Non è proprio una Oddio ci sono Quando parli di filosofia della nascita Normalmente parli di gente che vuole morire Ero che non vuole mai No 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 Quelli che dicevano che è tutto inutile Oddio Tutti Tipo No scherzo Qualunque persona Comunque Jumbo ho provato Quando sono entrato nel Defcon A riuscire Ma mi ha rimesso a metà Adesso Adesso ti dico Franci A round 33 A mezzanotte Forse Non riesco a pensarci troppo A chi sia No però Adesso ci sto pensando In realtà Ricordavo Che c'era un tipo Che stava morendo Nel letto E gli dicevano Cosa stai facendo Lui sto facendo la cosa Che mi riesce meglio Morire No 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 Ma pensa te Ma pensa te È successo Eh Aspetta che vedo Se riesco a scendere Con un teletrasporto No l'unica è salire Nell'ascensore grande Ti chiamo Eh no è troppo Troppo in là Io sono dalla corrente Sono a metà Sono a metà Sono a metà Ok 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 Oh mio dio Mi sono fottuto Il cervello Non c'è nessuna metà Arrivo Arrivo Sto arrivando Sto arrivando Però non ho il quick Qua non c'è nessuno Oh no no C'è il mondo qua C'è il mondo qua No no Spawnati adesso C'è il mondo Daz Oh E niente rip Ah sei rimasto solo tu? Questo è perché Non mi avete dato ascolto Dovevamo trappare Daz Se sei da solo Vai a fare trappole Sei da solo Sono rimasto Solo io Sì Solo io sono rimasto Con lag Esatto Dai ce la puoi fare Siete morti tutti Vai su a trappare Vai su prendi l'ascensore Ma vai su a trappare Che non so neanche Come si attiva la trappola Non vai a cagare Ci guidiamo noi Ci guidiamo noi Quanti punti c'hai Però c'ha pochi punti Magari se sono gli ultimi Lattivi una volta Ce la puoi fare Daz Ce la posso fare Ma come vado di sopra Con l'ascensore Con l'ascensore o Ascensorino Ascensore Oppure potrei Oppure ragazzi Potrei metterci Un'altra ora E finirlo Girando così Io ce la posso fare Tranquillamente Guardate che No No Guardate che D'addio Un po' di colpi Alla volta Con il lag A manetta Come vado Con l'ascensore Vado con l'ascensore Dai Vai 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 Bravo vai Sì Ok Ok Daz Adesso però Allora E ci è passato mezzo Eh vabbè ma crepavo Crepavo Cioè che cazzo dovevo fare Adesso Cioè devi attivarla Dal lato opposto Ovviamente rispetto a quello Dove sono No vedi che è un posto di merda Qua sotto Dai l'ho trappato insieme Cioè come cazzo fa Daz Apprezziamo il tuo impegno Ma andate a cagare Vada Voi le vostre trappole Di merda L'idea di Jambu Sarebbe fallita subito Avrei potuto farcela eh Stando tranquillo di sotto Ma guarda che non mancava Ce l'avrei fatta di sicuro Non mancava Ma Ma mancava una vita Cioè non siamo riusciti Eh ragazzi Sarà per il prossimo anno Battere questo Stramo Vieni di Cristo Eh sarà per il prossimo Oh madonna Vacca di Intanto Intanto non so che giorno di gennaio Siamo arrivati Ma vi ringraziamo Per Chi ha continuato a seguire Tutte queste parti di video Fino alla fine E Ma Chi è che mi ha spostato qua Eh sì abbiamo appena finito Mamma mia Stare che avete perso È al 33 ma Ovviamente se giocate senza di me Siete destinati Comunque era il destino Era il destino Era il destino Era il destino Che fossi io l'ultimo a crepare Era il destino Esatto Oh mio dio ragazzi Grazie davvero a tutti Grazie anche a Jambu A A A A Daz A Fabi Per la sua presenza E anche a Jimbo E ora E ora Voglio Non si è sentito nulla Voglio tirar fuori la battuta Voglio tirar fuori la battuta finale Sentiamo Voglio che qualcuno scriva nei commenti Che Mico continua a fare video E vedere quanti mi piacciono Arrivano nei commenti Oh Bene bene Vediamo vediamo Voglio nei commenti sentire che qualcuno Deve dire Eh no niente Stavo per dire parole Grazie ragazzi Grazie Non si può Grazie a tutti Noi ci sentiamo al prossimo video Ciao amici Buon Natale Ciao 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 Ciao